31esima edizione del Wine Festival qui a Merano, 31 anni e anche dell'ambiente ha 31 anni, parliamo di sostenibilità allo stesso tempo. Quale evoluzione avete avuto qui, quale avete visto sulle cantine soprattutto rispetto anche a sostenibilità e qualità? Allora il tema della sostenibilità io lo sto veicolando dal 2005. Nel 2005 mi sono inventato un evento che si chiama Bio e Dinamica e ho già voluto lanciare questo messaggio della sostenibilità, del rispetto della natura, del rispetto della terra. Quest'anno in maniera molto più decisa rispetto alle altre anate dove è già sempre stato un tema non principale, un tema all'interno. Quest'anno è stato un tema principale che ho voluto anche denominare in maniera molto semplice il respiro e il grido della terra. E questo vuol dire che coinvolge un po' tutti, non solo i viticoltori ma ognuno di noi, ma i viticoltori ovviamente maggiormente perché il messaggio è quello che va vista la filiera, quindi va visto anche quello che loro impegnano nella loro azienda, quello che fanno con il loro terreno, cambiamento del clima, tutto questo incide, tutto questo lo dobbiamo considerare e non all'ultimo momento poi correre ai ripari perché se noi siamo consapevoli del nostro comportamento penso che per la prossima generazione se riusciamo a rispettare la natura e rispettare la terra allora sicuramente non avremo problemi, anzi riusciremo ad avere un percorso e anche per quanto riguarda il prodotto stesso che è il vino un prodotto sicuramente più salobre, un prodotto più diciamo che oggi si parla anche di nuoce la salute, non nuoce la salute è chiaro che c'è dietro una filiera che va vista nel suo insieme e va considerata e rispettata. Voi state portando avanti anche dei progetti per esempio sull'Abruzzo Sostenibile, qual è l'idea e appunto l'idea di espansione anche di questi progetti? Allora la parola sostenibilità ormai è una parola anche usata a livello di marketing, un'azienda ha un impianto fotovoltaico vuol dire sostenibile un'azienda è biologica vuol dire sostenibile, tutto questo invece non è così, la sostenibilità è un insieme di cose, è un processo e qui con l'Abruzzo il mio impegno è quello proprio di far capire cosa vuol dire sostenibilità cercare di dare una direttiva proprio molto ben precisa facendo riferimento a un paese, in questo caso ho scelto la Nuova Zelanda perché il 95% della viticoltura è sostenibile quindi loro ci credono già dal 1995 che è una cosa, stiamo parlando quasi di 30 anni e quindi dobbiamo prenderci questo esempio, capire come sono riusciti ad arrivare a questo e poi iniziare un po' magari a fare un percorso come l'ha fatto la Nuova Zelanda, vedere le cose che vanno bene per noi e quindi l'obiettivo finale è quello che l'Abruzzo deve diventare la regione modello per quanto riguarda la sostenibilità a livello nazionale e a livello europeo. Lei crede appunto nelle sinergie che ci sono a livello mondiale e che alla fine connega anche con i cambiamenti climatici perciò quello che cambierà adesso anche per i viticoltori, per le aziende, quello che accadrà se riusciremo a gestire questi cambiamenti climatici anche nella qualità poi del vino che riusciamo a produrre? Ecco, sicuramente questo è l'elemento di traino, io da quando organizzo il Merano Wai Festival 1992 1992, la qualità è sempre la cosa a cui ci tengo principalmente, la qualità è la chiave proprio di un successo e questo era dall'inizio, da quando organizzo il Merano Wai Festival la selezione dei vini e quindi della massima qualità tutt'oggi lo stesso criterio ce l'ho all'interno del Merano Wai Festival e ovviamente puntando sulla sostenibilità non basta solo magari rispettare tutti questi processi ma alla fine il prodotto finale è quello che conta per cui è un insieme, è un equilibrio, è un cerchio da 360 gradi che va rispettato e questa è anche la parte mia fondamentale che è quella di garantire che la qualità continui a salire e continui comunque a essere riferimento di traino di un territorio come la Bruzza.